Ragazzi prima che inizi il video vi ricordo che sabato 30 ci sarà raduno in piazza Duomo a Milano Mi raccomando cercate di venire tutti quanti perché ci divertiremo tutti insieme alle 3 e un quarto, 3 e mezza Non lo so ragazzi comunque intorno a quell'olario mi ritroverò in piazza Duomo Forse con qualche ospite davvero molto speciale Ci vediamo nel momento video mi raccomando guardate tutto perché è davvero molto importante, bella Beh ragazzi come è che bentornati in questo mio nuovo video ragazzi Siamo oggi finalmente in un nuovo vlog ragazzi principalmente per parlare di che cosa Ragazzi ultimamente sono davvero molto in fiere e ho avuto la possibilità di essere invitato dal festival del nerd il 7 e l'8 maggio al loro evento che si terrà a Foggia Ragazzi come ho detto al 7 e 8 maggio a multisala di Foggia Ci saranno davvero molte occasioni di incontrarci quei giorni perché saremo in fiera davvero tutto quanto il giorno Sia sabato sia domenica perché noi, io, Marci, Chenoia, Metano partiremo Forse ho dimenticato qualcuno? Non credo ragazzi Partiremo il venerdì per essere in macchina pure quindi ci avremo anche davvero molte sbatti, molti problemi comunque per venire lì Ma noi ci teniamo davvero molto anche perché comunque incontriamo anche Charlie che non vediamo spesso Comunque ragazzi non parliamo di stronzate ma parliamo di dell'evento che è davvero una cosa molto importante Allora innanzitutto devo dirvi che sabato intorno alle 2 e mezza a 3 si terrà una specie di dibattito Tra noi più quelli sul server più qualche altro ospite Ragazzi prima di tutto c'è da dire che la fiera sarà totalmente gratis Come ho detto si terrà multisala di Foggia che da quanto mi ha spiegato Charlie è anche il multisala più grande del sud Una roba del genere quindi sarà anche abbastanza grande come evento E il sabato ragazzi intorno alle 2 e mezza a 3 si terrà una specie di dibattito tra noi più quelli sul server più qualche altro ospite Sotto vi lascio in descrizione il link di booking per acquistare il biglietto per partecipare a questo dibattito Ragazzi in pratica se avete voglia non siete per niente costretti potrete anche voi partecipare a questo dibattito Magari non ho capito magari ci potete fare anche delle domande Non chiedete a me ma ragazzi chiedete qualcosa in più su Charlie perché comunque è Charlie quella che magari sa un po' più di cose su questo dibattito Comunque se avete voglia ragazzi potete acquistare sotto in descrizione un biglietto, due biglietti, otto biglietti, una famiglia di biglietti Per partecipare anche voi a questo dibattito Nel link in descrizione ci sarà anche il nome di Frouse Parliamo di videogiochi ragazzi ma lui non sarà presente quindi dovrà anche cambiare il titolo, queste cose Però comunque ragazzi noi ci siamo tutti quanti Ti lascio anche ragazzi il canale di Telegram dell'evento che ragazzi verrà utilizzato principalmente solo per tipo scrivere Ragazzi noi ci teniamo qui se avete voglia incontriamoci perché comunque ragazzi voi non dovete perdere di vista il fatto che noi ci facciamo praticamente 100-900 km Per venire fino a Foggia giusto per incontrarvi, per incontrarci Ed è davvero una cosa molto importante per noi perché oltre a partecipare al Festival del Foggia Al Festival del Nair parteciperemo Non so più parlare ragazzi Parteciperemo anche al Joe Comics e davvero tanti altri eventi e siamo solo all'inizio ragazzi All'interno dell'evento ragazzi si potrà anche partecipare anche per esempio dei tornei di Clash Royale, di Minecraft Magari contro di noi e magari ci incontrate in giro possiamo anche fare una politica di Clash Royale Mi stai guardando e vuoi sfidermi Clash Royale? Io lo so che tu mi batterai però giochiamo Potremmo giocare a Clash Royale, Minecraft, quello che volete ragazzi Perché ci sarà anche la possibilità di fare degli eventi con dei giochi, con delle postazioni Quindi ragazzi cercate di venire perché è una cosa davvero molto importante Ragazzi con l'occasione anche per rispondere a qualche domanda vostra ragazzi Perché ultimamente mi state facendo molte domande soprattutto per i Foggia Che non stanno uscendo più come prima Anzi diciamo che i Foggia non sono mai usciti con una loro tempistica ecco diciamo così uscivano a cazzo Comunque ragazzi innanzitutto voglio dirvi spero che vi piaccia la nuova inquadratura Perché comunque sto usando un monitor nuovo per tenere la webcam Però credo che utilizzerò questa inquadratura solo per i vlog Perché per Minecraft magari preferisco un'inquadratura centrale Comunque banda di ciancia ragazzi io risponderei a qualche domanda vostra Per esempio partirei subito con la domanda con l'hashtag TheFuck Mike Riviera ci chiede Ti capite di avere vergogna quando incontri un fan? Ciao mi saluti allora ciao Mike Allora io vi devo raccontare questa storia ragazzi Perché è stata una cosa molto epica Al firmacopie di Dexter sono andato con lui, con Dexter, con Marci, col Cina, con Iaco E siamo stati tutti quanti assieme Il momento in cui Dexter era dovuto un attimo abbandonarci per entrare prima lui al firmacopie Eravamo in metro tutti quanti assieme con Marci, Iaco e il Cina E sono stati sediti per la metro per andare verso la Mondadoria E a un certo punto stavamo parlando tra di noi Nel senso più totale arriva un ragazzino E ci guarda stupito e ci urla Marco! Marci! Iaco! E io ho detto Che ansia Perché proprio l'ha urlato in mezzo alla strada tipo vedevi Tutto il tempo si è fermato Tutto il mondo si è fermato Ci ha guardato E tutti ci guardano Per esempio come delle divinità ragazzi Non chiedetemi perché E lui era davvero stupefatto di incontrarci lì Ed è stato davvero molto strano Non è stata una sensazione di vergogna Ma è stata una sensazione di stranezza ecco Ragazzi Raffaele Greco ci credo con la share Con la hashtag Hashtag Marco Hashtag Hai mai dato il tuo numero di telefono A una tua fan O a un fan Salutami Ciao Raffaele Allora il mio numero di telefono Si l'ho dato a una fan A qualche fan Perché comunque era magari Era tipo Diecimila iscritti fa Una roba del genere E quindi Diciamo che comunque Mi fidavo anche Conoscendo le persone in sé Ho detto vabbè Il mio numero io lo do Perché posso fidarmi Che poi il mio numero non gira Perché la mia più grande preoccupazione È che se do un numero A una persona Quella persona non deve averlo Perché magari Pensa Hihi c'hanno uno youtuber Adesso lo sparo in giro per il mondo Lì mi potrei incazzare molto Anche perché potrebbero succedere I casini devastanti con me Perché Fidatevi Che se il mio numero gira Per me è una preoccupazione Perché magari ti arrivano chiamate Ogni due per tre Messaggi da persone che non vuoi La cosa mi dà davvero molto fastidio E una volta Ho anche dato il mio numero A una fan Perché ho sbagliato Perché in pratica Quando ho fatto il I call you Non so come cazzo avete chiamato Lo speciale di 7000 iscritti Quando chiamavo i fan Li trollavo In chiamata La prima chiamata che ho fatto È stata la fan Che non ho messo il privato E quindi Durante la chiamata Forse l'ho tagliata nel video Dico Ciao Ma sai che non hai messo il privato E io ho detto Ah Ok Se tu dai il mio numero Io ti ammazzo Ragazzi Alessia vi intercede Con l'hashtag The fuck Tu e Marci Siete veramente fratelli Allora ragazzi Io Vi spiegherò la storia Di me e Marci Se questo video Arriva a 900 mi piace Se arriviamo a 900 mi piace Ragazzi Io vi spiegherò Tutta la storia Tra me e Marci Però dobbiamo arrivarci Se ci arriviamo A 900 mi piace Io dico ragazzi Perché per questo video è tutto Spero che Tutte le mie informazioni Vi siano arrivate Mi raccomando Vi lascio sotto In descrizione Tutti i link del caso Noi ci vediamo Al prossimo video da Marci È tutto Bella